3 nord ha intenzione di sostituire i treni della tarda sera con bassa sostitutivi sulle linee meno frequentate un colpo basso che se attuato danneggerebbe un grandissimo numero di ferrovie che presentano un servizio quanto meno presentabile potrebbe anche essere reale il dato secondo il quale non vi siano molte persone frequentanti questi treni in parte per i frequenti ritardi e per il materiale scadente utilizzato oltre che per la frequente mancanza di sicurezza inoltre è necessario che il servizio sia esaustivo dunque fino alle 21 o 22 l'unica speranza è che regione lombardia non approvi questa vergognosa e disastrosa ristrutturazione dell'orario